All'inizio è solo nella nostra testa, quindi noi pensiamo che sia valido, che siamo bravi, che scriviamo canzoni che possono interessare ad un pubblico, ma non c'è quel pubblico finché tu non hai il successo. Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, qui sempre il vostro caro Michele Maraglino, cantatore, produttore discografico indipendente, ufficio stampa, dal 2016 anche formatore, consulente musicale. Se è la prima volta che ti imbatti in un mio video, ti invito a dare un'occhiata a questo canale di YouTube, ci trovi un sacco di materiale utile se sei un musicista che si sta autopromomovendo, autopubblicando. Ci sono corsi gratuiti, video tutorial passo passo, distributori, approfondimenti, bandcamp, CI, soundriff, c'è di tutto. Poi nella descrizione di ogni video ci sono i link ai miei corsi e ai miei servizi di promozione. Dacci un occhio che ti possono essere utili. Oggi parliamo di una cosa molto importante, di un concetto molto importante per chi vuole vivere di musica, ragazzi. Bisogna capire come funziona il mercato musicale, perché se volete vivere di musica, e soprattutto mi rivolgo ai musicisti che scrivono le loro canzoni, ok, progetti inediti, bene, voi dovrete andare a vendere sostanzialmente queste canzoni, ok, siamo nell'epoca dello streaming, però qualcuno deve ascoltare, dovete avere molti ascolti su Spotify, sulle piattaforme. Quindi anche vendere copie fisiche ai concerti, ci deve essere una vendita, ok, perché si vive di musica come in qualsiasi altro settore, attraverso i soldi. Quindi è come se voi foste un'azienda, ok, e il vostro prodotto è la vostra musica, che poi si può declinare anche con merch, fisico, cd, magliette, qualsiasi cosa, però ecco, sostanzialmente si parte dalla musica. Allora, l'altro giorno, perché l'idea di questo video? Perché l'altro giorno ero su Instagram, anche se non vorrei esserci, però stavo scrollando, Instagram è l'unico social che mi è rimasto sul telefono, perché faccio le storie, anzi seguitemi su Instagram, faccio le storie, le faccio ancora io personalmente, quindi ero su Instagram e vedo un post di Giovanotti, che poi io seguirò pochissime persone, però mi escono poi, non sono sponsorizzate, che ti suggerisce i profili. Mi esce un post di Giovanotti che dice, sono in studio a registrare il nuovo disco, una cosa del genere. Quindi Giovanotti in questo momento è in studio e io dico, wow, Giovanotti è tranquillo lì in studio. Ho pensato, aveva fatto il Jova Beach Party prima del Covid, quindi si era comunque sbattuto tanto per organizzare, quindi era comunque molto, era stato molto visibile con il suo Jova Beach Party, quindi concerti nelle spiagge, era stato molto visibile, comunicazione e tutto quanto, poi è uscito il Covid, ma tanto lui aveva comunque, era stato esposto mediaticamente molto, quindi ci stava, si è preso una pausa, ora sta registrando. Perché dico tutto questo? Perché mentre registra, io ho pensato, ma sta lì, registra, ma che bello, con tutta la calma del mondo, oppure con le sue scadenze, ma comunque sta lavorando. E perché sta lavorando? Perché c'è qualcuno che vuole ciò che lui sta producendo. Come qualsiasi altra azienda c'è il fan di Giovanotti che aspetta sempre nuova musica, quindi lui sta lavorando, c'è tutta un'industria, avrà la sua major alle spalle, avrà la sua azienda, la casa discografica, tutti quanti, il tour, sono tutti pronti. L'agenzia Booking, che organizza i concerti, sono tutti pronti perché c'è un mercato da soddisfare. Il mercato di Giovanotti in questo caso è proprio il fan di Giovanotti. Lui si rivolge a tutti i suoi fan. Ok, fin qui non fa una piega. Il punto è, il mercato fan di Giovanotti esisteva prima di Giovanotti? No! Si è venuto a creare con il successo di Giovanotti. E questo è il problema nella musica. Molto spesso dobbiamo fare i conti con cose che sono prettamente economiche, come vendere un prodotto, però in questo caso è musica. Ok, dobbiamo fare i conti con un prodotto che all'inizio nessuno vuole. All'inizio è solo nella nostra testa, quindi noi pensiamo che sia valido, che siamo bravi, che scriviamo canzoni che possono interessare ad un pubblico, ma non c'è quel pubblico finché tu non hai il successo. Ok? Veniamo ai giorni nostri. Ok? Giovanotti fa parte di una roba di tanti anni fa. Ora sto parlando veramente male, ma è agosto, scusatemi. Cioè, è un artista del passato. Ok? Lui è esploso come si esplodeva una volta. E come funzionava una volta? Una volta c'era il tempo di andarsi a cercare i talenti. Ok? Quindi c'erano, mettiamo il caso, dei discografici che andavano alla ricerca, i cosiddetti talent scout, che andavano alla ricerca di qualcuno che potesse esplodere e che attorno a questo artista si potesse venire a creare un mercato. Ok? E questo è quello che si faceva fino a poco tempo fa. Cioè, no, fino a 10-20 anni fa. C'era il tempo, quindi con calma si cercavano artisti di talento. Poi che cos'è successo? Gli artisti sono comunque... Il business della musica è cresciuto, ci sono tantissimi artisti, ok? Ci sono vari generi musicali, si è veramente... è sovraffollato. E quindi adesso i discografici non hanno più il tempo di cercare qualcuno che dal nulla, diciamo, crei un mercato musicale. Ok? Che, per esempio, un Tiziano Ferro, ok? È esploso e quindi si è creato il mercato dei fan di Tiziano Ferro. No, adesso magari i discografici pensano, ok, c'è questo mercato dei fan di Tiziano Ferro, cerchiamo qualcuno di simile. Oppure produciamo canzoni e qui entrano in ballo i talent, ci sono vari mercati, perché i talent non inventano niente, non portano al successo un talento che crea il suo mercato. No, portano al successo un prodotto, diciamo, a tavolino che vanno sul sicuro, perché il mercato già esiste, ok? Se creo qualcosa di simile ai fan di Tiziano Ferro, otterrò comunque dei fan anche di questo altro prodotto, ok? Prima si poteva creare dal nulla un mercato, ok? Di un artista che il suo mercato, diciamo, nasceva nel momento in cui esplodeva questo artista e quindi tutti i discografici erano lì a cercare questi artisti di talento che poi creavano questo mercato. Adesso non gliene frega più niente a nessuno del talento e quindi ci sono i vari mercati da soddisfare con prodotti simili e quindi i talent, perché siamo nell'epoca della velocità, dello streaming, va tutto veloce e quindi voi dovete capire che cosa dovete fare. Se volete essere, diciamo, semplicemente soddisfare un bisogno di un mercato già esistente o volete creare il vostro mercato. È importante! E poi sto parlando in questi termini un po' business, un po' economici, però che cosa sto dicendo? Sto dicendo per mercato io non faccio altro che dire un concetto che dico sempre in questi video, cioè dovete creare il vostro pubblico, ok? In questo momento solo voi potete creare il vostro pubblico, non vi aspettate che qualcuno da fuori ci metta tempo, energie per darvi la possibilità, il tempo di maturare, solo voi potete maturare, solo voi potete darvi il tempo e potete farlo partendo subito con i social, potete con i distributori digitali, pubblicare su Spotify, andando a suonare, potete costruire un pezzetto di carriera, il pezzetto iniziale, da soli voi, per costruire quel mercato, per costruire quel pubblico che vi serve poi per vivere di musica. Quindi se volete fare una cosa del genere, che è la cosa migliore che potete fare perché è la cosa più solida, più concreta, perché è meglio creare il vostro pubblico che andare a cercare di fare qualcosa che già esiste, di copiare perché poi potete interessare qualche major che cercherà di dare la vostra roba ad un pubblico che già segue roba simile, ok? Create il vostro primo pubblico, il vostro primo mercato che è piccolo, ma poi si accorgeranno di voi, si accorgeranno di voi che avete i vostri fan e c'è un mercato, anche se è piccolo però, lo sanno che è solido, è il vostro piccolo mercato, il vostro piccolo pubblico che può crescere perché una volta che avete fatto 1000, 2000 persone, 3000 persone affezionate a voi, riuscite a riempire una sala di 100 persone che pagano un biglietto per venirvi a sentire, beh la cosa poi è esponenziale, le grandi etichette lo sanno e hanno i mezzi per poter allargare questo mercato, ma siccome siamo in tanti a suonare, allora costruite voi il primo pubblico, ok? Così sarete molto più attraenti alle case discografiche, quindi il mio consiglio è sempre lo stesso, partite dal basso voi, lasciate perdere i talent, partite dal basso voi, vi costruite il vostro pubblico, è chiaro, è la strada più lunga e più faticosa, però se volete approfondire come fare tutto questo andate su primopubblico.it, il mio webinar lì approfondisco un'ora e venti di corso dove vi spiego come si fa, come si fa a partire dal basso, ok? Con internet, guardate, c'è internet, ci sono i social, possiamo costruire con la comunicazione costante, possiamo aprire purtroppo questi social, utilizziamoli per quello, per il loro diciamo utilizzo migliore, non per rincoglionirci il cervello, costruiamo dei profili con la nostra band, un profilo YouTube, ok? E pubblichiamo video ogni giorno, Instagram, TikTok, sfruttiamoli, costruiamo il nostro pubblico, andiamo a suonare, poi trasformiamo, diciamo, dobbiamo avere recensioni, articoli, spiego tutto nel webinar veramente per costruire il vostro primo mercato dal nulla di vostri fan da servire, che poi potrete servire nel corso degli anni con dischi nuovi, canzoni nuove, merch nuovo, ma questo vi permetterà di vivere di musica, ovviamente poi dovrete, se volete far crescere questo pubblico, dovrete poi, non potete fare tutto da soli, ad un certo punto avrete bisogno di un'etichetta, di una casa discografica, di un'agenzia booking, chi vi cura il tour, chi vi cura la promozione, ok? Creerete uno staff, ma all'inizio per arrivare a interessare gli addetti ai lavori seri che possono veramente fare la differenza, nel senso che possono impattare perché hanno veramente i mezzi, potete interessarli solo se avete un vostro pubblico, ok? A parità di talento sceglieranno sempre persone che sono attive, che hanno già fatto un tour auto organizzato, autoprodotto, hanno pubblicato dischi, hanno già un seguito, ok? Quindi se volete approfondire come costruire il vostro primo pubblico, link in descrizione, trovate il mio webinar di un'ora e venti, approfondiamo con calma, lo trovate anche su primopubblico.it Spero che questa lezione vi sia stata utile, se vi ha aperto la mente, iscrivetevi al canale per supportare la mia attività, così posso fare più video, più cresciamo, più possiamo utilizzare questo canale YouTube, anche per farvi conoscere come il format che sta andando molto bene, quello dove ascolto la vostra musica in diretta, ok? Quindi fatemi sapere nei commenti, iscrivetevi al canale, andatevi a guardare, prenotatevi per il webinar su primopubblico.it e noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!